Ascolta il Consiglio, il Parlamento del Piemonte alla radio. Ha portato in seno l'istituzione in rigore morale e la fiducia nel funzionamento delle regole democratiche, accompagnando la transizione fra la prima e la seconda Repubblica, in uno dei momenti più difficili della vita politica italiana. Quattro gli ordini del giorno approvati dall'Aula all'unanimità sull'imposta municipale pubblica IMU a favore dei lavoratori Servi Reilex, Vagonlitz, sui lavoratori Mobilità e sulla tutela e valorizzazione del planetario di Pino Torinese, sul quale sentiamo Giampiero Leo, PDL. Il Consiglio regionale riconferma una politica in favore di una struttura quasi unica in Italia, utilissima per la divulgazione scientifica, per la crescita culturale e per la centralità di Torino e il Piemonte come regione dello spazio. Questo è il commento di Gianna Pentenero, PD. Crediamo che l'Osservatorio Astronomico del Piemonte sia una realtà importante per le nostre scuole, ma anche per il mondo scientifico. Chiediamo all'assessore di essere più preciso attraverso atti concreti, delibere o accordi che sanciscano davvero il futuro per l'Osservatorio Astronomico. Il Comitato regionale per le comunicazioni ha presentato gli obiettivi 2012. Oltre all'apertura di sedi periferiche in tutti i capoluoghi, c'è l'attenzione ai canali televisivi, come afferma Bruno Geraci, presidente del Corecom. L'obiettivo che il Corecom quest'anno si pone è far sì che il segnale del digitale terrestre possa arrivare a tutti i piemontesi, perché è inconcepibile, non più tollerabile, che oltre mezzo milione di cittadini piemontesi non possano vedere, per esempio, il Tg regionale della RAI. Dopo Novara è proseguito a Torino, nell'Aula di Palazzo Lascaris, il percorso di formazione protagonisse nei governi locali, promosso dal Consiglio regionale e dalla Consulta delle Lette del Piemonte. Il corso è articolato in quattro lezioni su cittadinanza attiva delle donne nel percorso dell'Unità d'Italia, funzionamento degli enti locali, federalismo fiscale e politiche europee. Prosegue fino al 3 marzo a Palazzo Lascaris la mostra dalla carrozza all'aereo, i piemontesi e i mezzi di locomozione nella fotografia dal 1860 al 1960. Le immagini storiche esposte appartengono ad alcune collezioni private e sono affiancate dai modellini dei mezzi di locomozione del tempo provenienti dal Museo del Modellismo di Chivasso. Dal Consiglio regionale è tutto, a risentirci alla prossima settimana. Ascolta il Consiglio, il Parlamento del Piemonte, alla radio.